Just Mick, al secolo Michele Odelli, divulgatore, creatore di contenuti digitali, divulgatore, fai un sacco di roba e YouTube è stata una parte importante della tua vita degli ultimi anni, vero? Sì, mi ha drenato abbastanza, però ti ha anche dato tanto, allora oggi qua non so di cosa chiacchieriamo io e te, perché andiamo proprio a cuore aperto, ma come sempre, prima della sigla! Il podcast di Rick Duferra, e chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie! Bene, bene! Sai che questa cosa degli zombie prima o poi diventerà proprio la realtà dei fatti e dovrà iniziare a cambiare qualcosa! Sì, sì, esatto! Stiamo andando verso di noi! E che a un certo punto dovrò cominciare a dire, ma forse un buon target potrebbe essere quello degli zombie, cioè devo cominciare a modificare! È un piacere averti qua, veramente! Piacere mio, piacere mio! Devo dire che i tuoi video sono freschi, cioè nel senso sono veramente freschi, sono belli, sono divertenti però al tempo stesso profondi, cioè alla fine le cose che discuti, oltre che trovarmi molto in linea sugli aspetti che vai a analizzare, però sono quella cosa che su YouTube spesso non trovi con quel tono eppure con quel lavoro tecnico dietro, quindi io ti faccio i complimenti! Che bello, grazie! E poi adesso invece partiamo con le stroncate! Vai, vai, vai! No, 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 allora intanto mi piacerebbe sentire qual è il tuo percorso, cioè come sei arrivato a YouTube, perché sei una figura un po' atipica, allora mi piacerebbe conoscere un po' di più del tuo percorso! Abbiamo tre o quattro ore per questa cosa, no, allora in verità c'è un po' un senso dietro, non ho ancora capito se sia una scusa, sai che col senno di poi poi inizi sempre a rendere poetico tutto quello che hai fatto, però io facevo, allora prima di YouTube, partiamo dal fatto che io avevo già uno studio che fa installazioni immersive, audiovisive, quindi queste cose un po' particolari, con effetti ottici, dove utilizzavamo linee guida neuroscientifiche per tentare di arrivare a cambiare lo stato mentale delle persone. Questa cosa qua... Molto orwelliana peraltro! Vabbè, è super vedere la reazione delle persone tra l'altro mentre che realizzi le cose perché vedi un risultato, però tante volte mi chiamavano a parlare del mio lavoro, quindi ho fatto un mare di situazioni da speaker dove parlavo davanti al pubblico. La verità amara di questa cosa qua è che tu ti trovi davanti a pubblici dai 30, 100, 150 persone e divulghi in qualche modo un modo che hai di lavorare, la parte neuroscientifica legata alla comunicazione, però poi se vado a guardarla da un punto di vista di business, cioè perché noi andavamo gratuitamente a fare queste cose in modo da scuotere anche un po' il mercato e farci conoscere, però siccome le cose che facevamo erano abbastanza costose, non perché noi ci facessimo pagare i me, ma perché costa l'attrezzatura, per cui una persona su 100 era un potenziale cliente, gli altri 99 magari no, però la reazione che avevano durante gli speech e il fatto di parlare di come siamo fatti della nostra parte emozionale, gli stati emozionali, li attirava tanto al punto che ho detto qua c'è del valore, cioè una cosa che piace le persone, però uno su 100 riesco magari a continuare qualcosa e a creare un progetto che però magari è legato a un brand e quindi poi devi un po' su altre cose. Gli altri 99 li perdo e quindi stavo cercando un metodo per riciclare, visto che ad oggi si usa tanto come termine, per riciclare un po' il pubblico, in un certo senso positivo, e dire vabbè ma c'è un modo per fare in modo che questo valore possa essere in qualche modo diventare interattivo e fare in modo da vedere se c'è altre persone a cui piace questa cosa. E quindi ho detto, se che c'è, provo a buttarle su YouTube. È partita così e poi di colpo la prima volta che ero lì a pensare a come fare il canale ho iniziato a mettere tutti gli argomenti di cui mi piace parlare, però avevo ancora il tarlo, come ti dicevo prima, del criptovalute. Per cui alla fine io tendo sempre a fare quello che sento di fare in quel momento, tanto all'inizio stai sperimentando. Sai che non ti guarderà nessuno perché hai il canale con proprio zero iscritti. E quindi il primo è stato questo video dove parlavo del mio approccio al bitcoin perché era relativo a come approccio qualcosa di nuovo ed era ambientato esattamente dove io stavo pensando questo primo episodio di YouTube. E quindi stavo anche un po' dicendo, l'anno scorso questa situazione, perché ero in vacanza in questo posto strano in Croazia, l'anno scorso mi hai dato questo, quest'anno magari mi dà un nuovo percorso che è quello di YouTube. E quindi ho voluto giocare in questa sorta di metà racconto di me stesso e dire vabbè provo a buttare fuori questa cosa. E da lì ho iniziato a avere il riscontro e io credo che la forza sia tanta negli argomenti. Quando la gente mi dice, è bello quell'episodio, a me viene da dire, sì sì è bellissimo quello episodio, ma non perché io l'ho fatto. Perché l'argomento è bello, perché gli argomenti sono strafili, io sono strappassionato di quella roba e quindi diciamo è cresciuto in fretta penso per quello, perché quando parli di come siamo fatti ovviamente riguarda ognuno di noi, quindi ognuno lo sente come il proprio racconto in un certo senso. E però sempre mantenendo la giusta dose di idiozia, che è molto importante, no? Ma guarda, prendersi sul serio è il giusto, anzi un po' meno del giusto è la misura perfetta, sono d'accordo. Peraltro esplorare il corpo umano però in un modo un po' diverso, nel senso non siamo fatti così dentro, però siamo fatti così. E questo è il motivo per cui quando io ho annunciato che avremmo fatto la chiacchierata, ma anche quando tanti mi chiedevano di fare questa cogitata, tanti mi dicevano perché è filosofia, effettivamente è così, cioè io ho parlato molto spesso di filosofia della mente, è una delle cose che mi sconfinferano di più, la filosofia della mente è bellissimo, gli stati di coscienza, la natura della coscienza sono cose bellissime. E proprio da qui mi piacerebbe partire, perché vorrei vedere anche la tua visione. Sai, una delle cose che molto spesso emerge quando si parla di questi temi è la questione della libertà, ok? Tu la questione della libertà molto spesso l'hai trattata. Speravo che ma si qua. No, la questione della libertà l'hai trattata alcune volte sui tuoi canali, io non ho visto tutti i tuoi video, però ho visto alcune volte in cui la trattavi. Allora, con un approccio neuroscientifico, a me pare che in questo periodo storico sia molto chiaro che la maggior parte degli studi vanno verso quello che è anche l'economia comportamentale, la quale ti dice, guarda, tu sei il risultato di una serie infinita di stimoli, microstimoli, sei consapevole di pochissimi, però sei determinato. Com'è che la vedi tu questa cosa qua? A me piace parlarne tantissimo, ma non so se ho un'opinione matura e finita a riguardo. Ah, ma le cose finite non ci piacciono. No, no, esatto. Ci piace lanciare gli stimoli. Serve molto, serve il non lo so là fuori, serve tantissimo non lo so là fuori. Allora, ti dirò che intanto non mi spaventa pensare al fatto che siamo predeterminati, che tutto è determinato. Perché non sento che cambia niente nella mia vita sapere che la libertà non è come penso che sia. Uno, perché comunque la vita non è che cambia, quella è e la vivi comunque al suo modo. E poi c'era questa bellissima teoria che dice, ok, poniamo il fatto che non esista libero arbitrio, come alcune ricerche neuroscientifiche dimostrano, quello di Libet è quello più famoso. Vediamo però che cos'è allora quella sensazione di libertà che abbiamo e qualcuno ha provato a ipotizzare che fosse uno stato emozionale, che è molto divertente da pensare, no? Cioè, e anche a me rilassa, nel senso mi fa dire, ok, fin tanto che io sento di vivere in libertà, il fatto che poi questa cosa qui in verità sia stata scritta in qualche modo, a parte che io per quanto sia egocentrico mi fa anche dire, benissimo, qualcuno aveva addirittura già scritto il mio libro, quindi perfetto. Quindi non mi crea chissà che sensazioni. Io penso che sia sano pensare che potremmo essere predeterminati, si dice così. In sostanza il fatto di avere tutto predeterminato ci fa dare una chiave di lettura diversa a tantissime cose. Una di queste, che è dove le neuroscienze vanno a toccare l'argomento del libro arbitrio, è nel forense per esempio, no? Assolutamente. Cioè, ok, quella persona è cattiva. Quella persona è cattiva perché? Perché decide di essere cattiva. Quanto noi siamo in grado di attaccare quella persona perché con cognizioni causa vuole essere cattiva? O quanto il contesto e tutta l'esperienza di vita vissuta l'hanno portata ad essere così nel tempo? E lì diventa veramente interessante. Io, primo, perché impari a decidere, cioè impari che quando trovi una situazione dove qualcuno è in una situazione, cioè qualcuno non ti piace o ha un comportamento che non ti piace, puoi avere un'arma in più per, in qualche modo, non dico giustificarla, però mettersi nei panni di quella persona e dire, ok, se io avessi avuto quella vita sarei così oppure no? E quindi inizia a identificarti un po' di più. Trovi un piccolo, un punto in comune su cui poter argomentare qualcosa invece che di nuovo polarizzarti e dire io non sarei mai così o cosa del genere. Quindi quello mi piace e anche in un certo senso mi rilassa a volte, no? Parlavo ieri sera del fatto, per esempio, di essere così antropocentristi come cultura, no? Però, ok, sbagliato, a chi vogliamo dare la colpa? In verità sono anni e anni di contesto, no? Di esperienze di vita vissuta, per cui bisogna considerarle, sapere che hanno un peso stratosferico, perché solo così hai la consapevolezza di dire, ok, mi ci vorrà altrettanto tempo probabilmente a cambiare le cose. Assolutamente sì. E quindi inizia a non polarizzare di nuovo, a non dire no da domani, no quella... No, le persone richiedono tempo perché noi, in sostanza, in una vita intera non facciamo altro che programmarci sempre di più. Per cui il cambio è un software di anni e anni. Sai, su questa cosa qua hai toccato un tema che in quest'ultimo periodo mi ha proprio preso tantissimo, l'ho anche discusso parzialmente in uno degli ultimi episodi. Sul tema delle libertà, a me pare che ci sia una tendenza dei cattivi ad appropriarsi il discorso della libertà. E ti faccio anche due esempi molto concreti. L'esempio di Una Bomber e di Breivik. Ok. Allora, non so se hai visto la serie TV Manhunt, Una Bomber, ecco. Sì, bellissimo. Che è bellissimo, perché nel finale, cos'è che succede? Succede che persino i suoi avvocati difensori cercano di portare avanti la tesi dell'accusa, cioè Kaczynski non voleva fare quello che ha fatto. Non ha fatto con intenzione, l'ha fatto perché è malato di mente. E lui ha combattuto, sta combattendo ancora adesso legalmente per contestare questa cosa. Perché? Perché lui vuole dire, guarda che io l'ho fatto non solo con cognizione di causa, l'ho fatto con in mente un progetto, che è quello del suo libro e tutte le sue tesi filosofiche, che peraltro io mi sono letto, sembra il peggior fusaro, ma a parte quello, a parte quello, è molto interessante perché lui cerca di dire, no, no, io sono libero di fare, sono libero e voglio che questa cosa venga riconosciuta. E dall'altro lato Breivik, che durante il processo, sia anche lì, sia l'accusa che la difesa ha cercato di dire, è evidentemente una persona disturbata, hanno cercato motivazioni nella sua infanzia, nella violenza subita, nel rapporto col padre, non hanno trovato niente di eclatante, se non cose abbastanza normali. E Breivik ha continuato a dire, continua a dire, no, no, io l'ho fatto, non solo lo rifarei, ma non consideratemi malato, l'ho fatto con un progetto in mente. E c'è tutta una letteratura che è molto interessante perché se tu vai a guardare nel fumetto, nel cinema, i personaggi che nel tempo hanno cercato di difendere questo, io l'ho fatto con intenzione, sono quasi sempre i cattivi. Dal Joker di Batman, al Freddy Krueger di Nightmare. E qual è la cosa più interessante di tutte? Questa è veramente bellissima e mi piace anche sviscerarle queste cose qua. che negli ultimi 15 anni, quelli sono personaggi a cui si è cercato in tutti i modi di dare un background. Allora c'è il Nightmare in cui si dice, eh ma guarda che Freddy Krueger, in realtà che è il mostro che ti invade gli incubi e ti fa un mazzo così mentre sogni, è così perché ha avuto un'infanzia difficile, perché è stato abusato da padre. Joker è così, anche se Joker è il senza passato. Joker dovrebbe essere una delle incarnazioni del male, un po' come Dracula. Guarda che Joker è così perché ha avuto un'infanzia difficile. E c'è questa tendenza che io trovo interessantissima, perché noi non sopportiamo l'idea che esiste il male. Dietro a questa idea della libertà, oltre alla neuroscienza che ci dà delle prove, che sono circostanziali e ci fanno mettere in dubbio il fatto di poter prendere decisioni libere, però c'è anche una paura maledetta di dire, oh no, noi possiamo fare il male perché possiamo essere malvagi. E invece facciamo il male solo in conseguenza di qualcosa che abbiamo subito. E questa è una tendenza che io trovo molto, molto, diciamo così, caratteristica della nostra epoca. Beh, Joker secondo me ha fatto un lavoro immenso da questo punto di vista, va a far vedere come si può vedere da un punto diverso, da un'altra chiave di lettura. La domanda secondo me sta sempre sul, quando pensi, quando sviluppi un pensiero, è sempre dato da tutta una serie di circostanze e di esperienze di vita che ti hanno fatto avere un punto di vista nelle cose. Quindi in ogni caso non si può prescindere dal fatto che il passato ti abbia influenzato. Assolutamente. Da lì a definire che cos'è malattia e che cos'è no, e che cos'è... Allora lì si va su tutto un altro fronte dove... Lì sono le etichette di nuovo. E come qua vado su temi delicatissimi, come la depressione, è un tema che rischi sempre che quando dai un'etichetta del genere poi può diventare tutto quella cosa lì. Certo. Il male alle gambe. D'essere un nome al male alle gambe saremo tutti malati. Avvero? Che poi chi la studia dal punto di vista del marketing sa anche, no, che quelle cose basta solo mettere il dubbio. Nella farmacia lo fanno sempre. Hai male alle gambe? Fai così. Tu non hai male alle gambe fino al momento in cui non leggi che hai male alle gambe. Cioè stai stanco alle gambe, scusate, stanco alle gambe è la cosa giusta. Per cui, sì, è interessante vedere che ci sia una chiave di lettura diversa e sicuramente stimola le persone. Penso che aiuterà tantissimo a creare consapevolezza nel fatto di vedere le cose da una chiave di lettura diversa. Proprio perché anche lo storytelling è sempre cresciuto sul hai bisogno di un nemico, hai bisogno di qualcuno con cui, insomma, così hai un obiettivo di conseguenza. Una roba che discuto sempre è anche la polarizzazione per questo motivo. Noi tendiamo a polarizzarsi perché siamo fatti proprio di storie e la nostra storia ha senso quando dobbiamo combattere qualcosa, altrimenti dov'è il senso? Quando ti svegli la mattina c'è sempre qualcosa che devi cambiare, quel qualcuno da attaccare. E questo sui social sta esagerando in maniera tremenda. Il fatto di vedere proprio dall'altro punto di vista le cose è come minimo stimolante all'infinito. No, è fondamentale, è fondamentale. Visto che parli di storie, è la contrapposizione fra Frankenstein e Dracula. Frankenstein è un mostro, è orribile, è inguardabile, però l'abbiamo prodotto noi sulla base del contesto, della società. Mentre Dracula, Dracula invece, devi polarizzarlo Dracula. Cioè quando Harker trova Dracula, non è che può dirgli, ah dai, scolta, andiamo a farci un caffè, facciamo una chiacchierata e magari troviamo un punto d'incontro. E quindi ci sono queste due visioni che sono due visioni antropologiche proprio. Da un lato tu hai l'idea che il male è qualcosa di esistente e che quando lo incontri lo devi combattere. È una cosa che ha ispirato migliaia di pagine di eroismo, supereroismo. E poi invece dall'altra parte c'è, quando incontri il male in realtà è sempre una prospettiva sul male, che è una cosa difficile. Io adesso sto pensandola molto sugli animali, visto che mi sto orientando a tentare di capire il regno animale di più e anche lì, buono e cattivo. Cioè lì non avendo chissà che costruzione mentale, dal punto di vista di un animale, lì ti devi porre di nuovo i punti di domanda su perché un animale è più cattivo dell'altro e lì le risposte sono già un po' più ovvie. Cioè è letteralmente determinato dal contesto in cui si trovano. Per cui lì diventa un po' particolare, perché noi comunque partiamo da lì. Poi abbiamo tutta la costruzione dell'ego, eccetera, eccetera, che complica un po' le cose. Ti fai anche la domanda sulla distanza evolutiva. Faccio un esempio. Tu hai fatto quel bellissimo video, mi è piaciuto proprio tanto, anzi consiglio a tutti quelli che stanno seguendo di vederlo, anche perché è un bel progetto di finanziamento, crowdfunding, quindi insomma è un bellissimo progetto. Lo metto in descrizione, quindi mi raccomando, datici un'occhiata. Quando tu hai a che fare con il mondo animale, entri in contatto con un concetto di diversità, perché comunque è un mondo molto diverso, però entri anche in contatto con una diversità che si basa sulla distanza evolutiva. Faccio un esempio. Un pitbull, io lo so perfettamente, che diventa cattivo se il padrone lo addestra da cattivo. Poi ogni cane ha il suo carattere, cioè il cane che, come noi esseri umani, abbiamo il carattere, quindi abbiamo già una tendenza, siamo già un po' accablati per andare in qualche direzione, però poi è determinato il contesto. Certamente per un coccodrillo non vale lo stesso, cioè nel senso c'è tutta una lunghissima sfumatura, è un coccodrillo, posso addestrarlo finché voglio, però se poi non lo sedo, mi mangia un braccio. Perché? Perché è fatto così. E quindi è molto complicato questo tema qua, e a me pare che la narrazione che noi abbiamo adottato sulla polarizzazione, sul bene o male, derivi anche dal nostro passato. In fin dei conti noi siamo ancora letteralmente quelle creature che sono cresciute nella foresta 25.000, 30.000, ma anche 60.000 anni fa, e prima di diventare agricoltori, quello che siamo diventati, e quella roba lì non ce la siamo ancora tolta. E quindi riuscire a mettersi nei panni è una cosa che ci risulta ancora difficilissima, è una fatica incredibile. Sì, 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 sono d'accordo su questo. Ma io non lo so, quando aver incontrato gli animali in un modo in cui li ho incontrato mi ha un po' buttato da tutte le parti, nel senso che ti poni comunque delle domande su tutto quello che hai sempre creduto essere la differenza tra essere umano e gli altri animali, e già a partire dal concetto dell'intelligenza, che è questo enorme dibattito sugli animali sono intelligenti oppure no, e che cos'è l'intelligenza soprattutto. Ho avuto discussioni di ogni tipo e sono anche curioso di sapere cosa ne pensi tu, perché uno dei punti, uno dei modi di definire l'intelligenza è quello spazio che hai dall'istinto all'azione. Per cui noi da questo punto di vista teoricamente siamo più intelligenti perché abbiamo uno spazio maggiore, cioè abbiamo la ragione tra l'istinto e l'azione, quindi possiamo argomentare, calcolare quello che arriva dagli input sensoriali fino a quello che decidiamo di fare. Però l'intelligenza da un altro punto di vista è data tantissimo dal contesto di nuovo. La famosa frase, oddio c'è quella del pesce, che se dovesse arrampicare un albero si sentirebbe stupido tutta la vita. Noi siamo stupidi per un pesce perché non sappiamo respirare come respira un pesce. Quindi l'intelligenza è strettamente legata al contesto di nuovo. E quindi anche lì le relazioni diventano difficili a relazionare specie diverse. Ieri in live una persona mi ha detto un ipopotamo può pensare tutta la vita ma non diventerà mai un avvocato. E io ho detto, guarda, è l'esempio perfetto. Se un ipopotamo pensasse che ci sia bisogno di un avvocato, cioè è già idiota come concetto di per sé perché dovremmo aver bisogno. Cioè, quindi, diciamo che ci sono tanti stimoli. Io sono ancora estremamente in erba su questi concetti. Sto ancora tentando di formulare un'idea. Mi considero molto antispecista, questo sì. Considero, anche se noi fossimo diversi dal punto di vista dell'intelligenza e di capacità di reagire rispetto agli stimoli, la trovo una caratteristica. Quindi, va bene, abbiamo questa caratteristica come altri animali ne hanno altre. e non è l'unica e non è l'unica per sopravvivere. Se poi prendi quello che diceva Rari, il fatto che noi siamo stati declassati dalle scimmie in origine per poi evolverci in un altro modo fa pensare anche a quello. È un bel mondo da esplorare. Guarda, allora, sull'antispecismo io credo che sia molto semplicemente una necessità culturale. Noi in realtà creiamo tassonomie di ogni genere. Quindi, fin tanto che la specie viene considerata un modo per dare ordine alla natura, alla realtà, ti dico, è semplicemente il nostro linguaggio. Quindi è il modo con cui noi ci rapportiamo alla realtà. Ovviamente, quando poi lo specismo diventa un tentativo di mettere delle barriere in entrata che sono biologiche, lì diventa molto stupido come discorso. Quindi, non c'è dubbio, sono uno specista culturale. E non accetto che quella cosa esista in natura. è una costruzione nostra con cui però noi dobbiamo aggrapparci alla realtà perché è il nostro modo di incasellare la realtà. Sul discorso di intelligenza è un discorso vastissimo. Io credo di essere molto vicino a quello che diceva un filosofo romeno del Novecento che è Emil Cioran. Lui diceva che quella che noi consideriamo intelligenza nel mondo della natura è soprattutto stupidità. Cioè, cos'è che intendo dire? Cioè, anche duemila anni fa Epiteto diceva hai mai visto un toro che si guarda allo specchio? Tanto per riprendere la frase che ti ha detto in live. Hai mai visto un toro allo specchio che si chiede cosa vuol fare da grande? No. Questo è un plus o un minus rispetto all'essere umano? Per Epiteto è un minus, indubbiamente. Perché l'essere umano si sveglia con il problema del chi sei, chi diavolo sono, cosa voglio fare. Un toro è un toro per tutta la vita. Ora, dal mio punto di vista è evidente che se mettiamo come presupposto dell'esistenza la serenità, il toro è molto più sereno rispetto all'essere umano. Esatto. Non c'è alcun dubbio. È la chiave di lettura. Non c'è alcun dubbio. Quindi io considero l'intelligenza una rottura. Cioè, noi siamo veramente difettosi. E lo credo. Su quanto sono d'accordo con questa cosa. Magari che si pensi, la domanda stessa a chi sono io è una domanda che non ha senso. E noi abbiamo costruito una società su questo non senso. E però, dall'altra parte, mi rendo conto che questo non senso ci ha permesso di fare delle cose straordinarie. La nostra rottura ci ha permesso di avere un rapporto strumentale con la realtà che in qualche modo, ed questo è interessante perché in realtà ti fa capire quando il concetto stesso di evoluzione sia rotto in sé per sé, questa rottura, questo malfunzionamento ci ha permesso di andare laddove nessun altro animale potrebbe fare. Dalla luna all'esplorazione. Ci ha permesso di diffonderci sul pianeta con tutti i pro e i contro in un modo con cui nessun'altra specie, se non alcuni insetti, ma anche quelli con grandi differenziazioni, è riuscito a fare. Quindi mi sembra che l'intelligenza sia una rottura di straordinario successo. Questo è per me. Sì, e però di nuovo puoi vedere il successo come una cosa positiva o negativa a seconda di qual è l'obiettivo. Certo. Cioè, qua, nell'argomento spesso, anche con i follower, perché tanta gente, soprattutto chi segue il mondo animale, eccetera, la mindfulness è fatto di stare bene, è in armonia, ti risponde classicamente ma se stai buono lì e non pensi alle cose, stai bene lo stesso, anzi stai meglio. Lì ovviamente sono anche stili di vita, scelte che si fanno. Io penso come te da questo punto di vista, l'intelligenza, l'ego in generale, il fatto di porsi quelle domande che sono letteralmente dei mindfuck, perché non trovano soluzione, anzi, cioè, è proprio, metti il cervello in una tipologia di stress veramente particolare, che ci porta a continuare a frizionare con la vita e questo frizionare ci permette, perché la frizione è apprendimento, quindi tu continui ad apprendere e a migliorarti e a trovarti in situazioni assurde, belle o brutte che siano. Il punto è che tu hai la forza di conoscere il mondo in un modo in cui nessun altro animale sarà in grado di conoscerlo. E quindi quello è il vantaggio che abbiamo, portandoci dietro tutti i crucidi, di che cosa vuol dire vivere con se stessi, perché alla fine è proprio anche una cosa in cui ci svegliamo la mattina e il punto a quel punto dovrebbe arrivare alla domanda e allora qual è la felicità? E se l'obiettivo è la felicità, allora preferisci essere l'animale che non ha la minima idea di che cosa capita fra un secondo perché non gliene frega niente o l'uomo che vuole andare sulla luna. Quindi lì io sono proprio rotto in due, perché da un punto di vista adoro la vita, adoro esplorare la curiosità, il mio pane proprio mi spinge da tutte le parti, quindi sono molto fortunato e mi ritengo fortunato ad avere questa forza. Da un altro punto di vista sento che proprio per la mia necessità forte di continuare a curiosare, io in verità di certo non posso dire di avere una vita rilassata e di stare bene con me stesso, nel senso che sì, sono consapevole al punto di stare bene perché mi do la pacca sulla spalla. Cioè non è che sto bene perché non ho stress, perché vivo tutto divertendomi, punto e basta. Io friziono dalla mattina alla sera, però ho la tranquillità di dirmi questo è il mio limite come essere umano, questa è la croce che mi porto dietro per il fatto di avere questo potenziale in più. E a volte ovviamente guardo gli altri animali e tento di copiarli, cioè io ho un gatto, Meghi, continuo a dirci insegnami a staccare perché io non ce la faccio. Per cui è proprio una... Dipende, se il punto di domanda è dov'è la felicità, è una cosa, se un altro punto di domanda è l'evoluzione, però allora bisogna fare altri punti di domanda su che cosa è l'evoluzione e qual è l'obiettivo finale di tutto. È pazzesca come roba. Sì, sì, sì. Noi quando guardo i pazzi la Megata invece dico va che mona, e proprio dico no, no, cioè io invece sono della parte di dire no, no, mi porto dietro il costo di essere umano, ma no, dai, no. No, è una cosa veramente molto interessante, anche perché poi questo, ecco, e credo che lì ci sia un tema veramente che va a toccare delle corde particolari. In fin dei conti noi con quelle creature al di là di intelligenza e evoluzione però condividiamo una fragilità incredibile. Fragilità è un tema che tu hai trattato molto spesso e anche in modo molto, ecco, un'altra cosa che mi è piaciuto vedendo i tuoi video è che tu tratti dei temi esattamente come cerco di fare io che molto spesso su internet non si trovano. Come fai tu, non come cerchi di fare tu, li fai benissimo. No, cerco, 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 ci provo, ci provo. Ed è il tema della morte per esempio. C'è un video anche abbastanza recente in cui a un certo punto tu dici proprio io non devo pensare del fatto che morirò a 80 anni. È stupido pensarci a 80 anni. E devo pensare a 20 anni che non arriverò ai 30 e ai 30 che non arriverò ai 40. Ed è una cosa che ho sempre tentato di mantenere perché io ricordo anche le esperienze che ho avuto in passato in cui ho visto scomparire persone mi sono reso conto dell'urgenza. E allora voglio porti una domanda perché anche lì nella relazione con la morte c'è una possibile rottura di quell'intelligenza perché da un lato pensare al fatto che cavolo io potrei uscire di qua venire investito o potrei stramazzare qua sul tavolo adesso tac è successo? Non è successo perfetto quindi ancora qualche minuto ce l'ho è un pensiero molto vivificante cioè mi permette di dire cavolo vivo ogni istante esatto veramente come se fosse quello in cui mettere tutto. Dall'altra parte però mi rendo conto che questo è un pensiero che in alcune persone spinge a bruciarsi e distruggersi perché il pensiero di poter ancora perdurare è il pensiero che mi permette di dire faccio un sacrificio adesso per quello che avverrà fra due anni fra dieci anni noi ci istruiamo perché a 30 anni vogliamo avere un lavoro migliore è vero che magari 25 anni cadiamo da un palazzo e ciao e quindi quell'istruzione diventa però credo che sia una cosa molto complicata allora com'è che la vivi tu? perché io ho sempre trovato questa di nuovo una spaccatura siamo creature sempre spaccate quella spaccatura lì com'è che la vivi tu? Super argomento allora io lo dicevo anche ieri mi ritengo quasi tanatofobico cioè io non so non so processare in certe situazioni non so processare la morte credo di sicuro vivo tremendamente la corsa alla vita proprio perché ho troppe robe da fare per morire non posso figurati per cui però devo scalare l'imalaya assolutamente che però è già un processo sbagliato perché è orientato verso il futuro la verità è che l'istante è la cosa più preziosa perché tutto quello che è orientato verso il futuro provoca anche poi l'ansia del futuro stesso c'è una la 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 storia delle tre morti messicane che poi ho visto che ci sono più interpretazioni io la dirò come dice il grande Jason Silva ci sono tre tre modi di morire forse tu la sai magari me la sai anche mettere meglio no no mi sa che non la conosco perfetto allora mettiamola giù facciamo finta che non sia neanche messicana così non sbagliamo nel caso che ci sia l'altra interpretazione perché sono due comunque tu hai tre morti in una vita tu mori tre volte per i messicani la prima volta è quando scopri che la tua vita è limitata cioè che tu morirai un giorno quella è la prima morte la seconda morte è quella effettiva e la terza morte è quando l'ultima persona sulla faccia della terra per l'ultima volta apre un pensiero su di te che è stratosferico ok a me interessa la prima per assurdo cioè il fatto che nel momento in cui tu scopri che non sei un essere infinito tu da lì in poi porti il peso di questa cosa qua no? e quindi puoi fare delle scelte puoi anche essere imprenditoriale oppure no perché scegliere di vivere e costruire è un progetto imprenditoriale rispetto al fatto che sai che finirà ok quindi uno potrebbe benissimo dire fortunatamente la vita ci spinge in altro modo ma potrebbe dire ma cosa faccio che tanto muoio no? cosa investo per cui quella è la fatica la fatica forte da un altro punto di vista invece la terza beh la seconda morte la conosciamo cioè non la conosciamo per assurdo però insomma sappiamo che c'è la terza morte invece è quella che secondo me spinge ci spinge a livello anche di interazione umana questo è un pensiero molto personale però è quello che dico anche su memorabile è tutto il concetto del voler rimanere impressi negli altri cioè noi qualunque tipo di interazione noi siamo esseri sociali che hanno bisogno di comunicare l'un l'altro e quando lo facciamo non lo facciamo beh oddio c'è chi lo fa tanto per dire le cose però spesso è perché vuoi una reazione e vuoi in qualche modo essere impresso nella mente dell'altro e quello ho sempre pensato che sia un modo per combattere la morte cioè in un certo senso quando io dico qualcosa a te e in qualche modo riesco a rimanere impresso nella tua memoria a lungo termine succedono due cose io mi muovo nello spazio fuori dalla mia testa ed entro nella tua cioè in un certo senso c'è qualcosa di me nella tua testa e poi anche nel tempo perché se io schiatto fra due secondi e speriamo di no però tu faresti molte visite molte views e in quel caso lì comunque rimarrei nella tua mente ancora impresso per un po' quindi quella è una parte più poetica che però io utilizzo per ricordarmi un possibile drive che abbiamo nell'aver bisogno di comunicare nel aver bisogno di rimanere uno scoop per qualcun altro rimanere impressi per qualcun altro poi la morte io veramente non so non credo di saperla processare e qua una cosa che non dico mai in live ma la racconto tranquillamente racconto anche a te perché è molto utile per questo discorso dicembre 2014 manca mia madre ok allora io quando faccio questo discorso ovviamente le persone tendono subito a mi dispiace si va un attimo su invece per me è un argomento come qualunque altro è potenzialmente pericoloso ma me ne frego del fatto che magari la gente dice ma come comunque ho detto mamma eccetera eccetera però io avevo un rapporto talmente forte con mia madre e talmente risolto allo stesso tempo che è una cosa importante che il tipo di cioè che il fatto che parlare di lei non mi tocchi non significa che non le volessi bene io sono completamente risolto come stesso su questa cosa so benissimo che tipo di rapporto avessi però questa cosa qua mi è sempre cioè è sempre rimasto un punto di domanda per me io da quando è mancata un anno dopo due anni dopo ora siamo sette anni dopo per me è uguale e so che può stridere è uguale al fatto che non mi risponda il telefono neanche oggi vabbè bene perché sennò poi mi tiene su con tutte le cose che vuole sapere cosa ho fatto anche oggi perché è una presenza per te sì sì per me è semplicemente un fatto logistico il fatto di non poter parlare con lei che quasi quasi da un punto di vista adesso lasciatemela dire proprio in maniera grezza ma che da un punto di vista mi fa anche dire dai che ho robe da fare così meglio che sennò dopo sto al telefono mi chiedere solite robe ogni giorno eccetera eccetera quindi questa cosa qua è veramente assurda e l'ho chiesto a molte persone c'è chi mi ha detto che questo è proprio un disturbo dissociativo e io quando sento la parola disturbo mi diverto sempre perché dico un disturbo sai io la potrei vedere al posto in modo contrario c'è una fortunata cosa che potrei anche stare malissimo esatto magari quello è un disturbo è stare malissimo esatto quindi di nuovo il concetto di etichette e però è una cosa che continuo a tentare di capire c'è chi mi ha detto anni dopo crollerai dopo tre anni si crolla e quindi in qualche modo lì c'è un qualche cosa che voglio capire di che cosa mi accade perché se da un punto di vista ho paura della morte molta e da un altro punto di vista invece quando mi manca una persona così vicina non sento la stessa paura cioè o sono proprio un come si dice un egoista del cazzo però insomma anche se lo fossi non credo di esserlo a quel punto oppure c'è qualche cosa che devo ancora esplorare che potrebbe anche essere qualcosa di interessante certo mentre quando mi è mancato Martino il mio gatto a giugno dell'anno scorso lì invece sono crollato e allora lì ne ho parlato con anche con Gennaro se non sbaglio e ne ho parlato con Angelo Vaira che non so se lo conosce no vallo a conoscere perché sarebbe un ottimo ospite lui tratta gli animali cioè scienze cognitive sugli animali non è uno scienziato però ha sempre trattato il legame tra animali e essere umano soprattutto cane e padrone tra virgolette e ne sa tanto è molto bravo poi fa mindfulness e ha preso la sua strada da tantissimi anni e ha molta esperienza e una volta mi ha regalato questo pensiero eravamo proprio in live su Twitch tra l'altro e mi fa guarda con Martino probabilmente è diverso perché a differenza di una madre o un padre che come per le morti mersicane quando lo scopri capisci che prima o poi mancheranno e teoricamente insomma se la natura fa il suo corso normale moriranno prima di te e invece per qualcosa che è più piccolo di te e per cui tu hai avuto un ruolo da genitore il processo di mancamento è completamente diverso perché tu eri in una relazione di protezione rispetto all'animale e quindi fino al giorno prima eri lì a tentare di capire che non si facesse male dove è quella e poi tutto un tratto non c'è più una sorta di fallimento esatto quindi ti manca in quel senso lì e questa è una cosa estremamente interessante che in qualche modo faccio lo leggo un po' con il discorso di mia madre perché per mia madre è vero che sento anche un po' questa cosa che la natura in qualche modo è normale di nuovo sono cose pese da dire però è una razionalizzazione sì sì però sì sì certo certo capisco con Martino invece quando ci penso mi colpisce mi ferisce proprio quindi è una cosa diversa poi c'è da dire a questo ora non so perché non voglio entrare nel dettaglio però nel come avviene cioè io per esempio ho perso mio padre l'anno scorso ok il modo in cui è avvenuto è stato più difficile rispetto a tutto il percorso che c'era prima poi in realtà io con mio padre ho un rapporto abbastanza conflittuale quindi in realtà parte del dolore che sento è legato a quel fatto che c'è un'incompiutezza ok c'è un'incompiutezza quindi può essere che magari ci sia un rapporto in cui due persone si sentono talmente talmente in sintonia talmente come se ci fossimo detti tutto ecco la morte invece ti lascia incompiuto è quella sicuramente che ti quante cose avrei voluto dire quante cose avrei voluto fare guarda considera tanto perché proprio esattamente questo è il punto io credo tanto che c'entri il concetto di essere risolti al punto che tipo mia mamma è entrata in ospedale è uscita in 40 giorni cioè è uscita non è uscita in 40 giorni quindi una roba velocissima però negli ultimi giorni era talmente tutto fuscato era una situazione talmente surreale e anche lei sotto medicinali eccetera che io ho preso il ruolo alla big fish dico sempre quindi in sostanza ho creato un ambiente protetto di racconti tra me e mia madre fatto di vabbè poi faremo questo faremo quello ci guardavamo cose assieme cioè non eravamo in ospedale non eravamo da nessuna parte eravamo in un ambiente nostro credo che anche questo abbia aiutato tantissimo a chiudere proprio la storia cioè quella storia è stata poetica è stata chiusa in maniera così bella che quasi ti diresti cavolo se fosse andata in maniera diversa perché ci ho pensato anche metti anche che fosse uscita avrebbe avuto ancora un po' da vivere sarebbe stato molto più tragico da un punto di vista quindi per assurdo potrebbe essere anche come dici te che a differenza di cioè a seconda di come vivi quell'esperienza nel caso mio effettivamente è stato proprio un racconto iniziato e chiuso in maniera proprio con il fiocco sopra per quanto poi sia qualcuno che poi ti manca un uomo racconta le sue storie talmente tante volte che quando muore le sue storie gli sopravvivono e poi diventa immortale che è proprio Big Fish devo dirti questo è un po' perché all'elogio fundo di mio padre io ho citato proprio Big Fish insomma c'è stata questa questa cosa qua e sai questo discorso è molto importante perché io questo aspetto dell'eredità che uno lascia dietro di sé l'ho vissuta da giovane con letteratura e ti racconto anche come io quando ho letto per la prima volta vabbè i miei ascoltatori già l'hanno sentita questa storia ma chi se ne frega i miei ascoltatori siamo qua io e te a parlare siamo come dei vecchietti che ripetono le cose esatto e queste saranno le storie che si fanno diventare immortali quanto rompeva le balle Dufer quando parlava di Gulliver diranno ecco io quando ho letto Gulliver la prima volta non sapevo nulla dell'autore Jonathan Swift ok avevo 12-13 anni e io chiudo il libro bruciato in pochi giorni mi guardo intorno e dico ma questo quando è che mi ha guardato vivere ok e invece ho scoperto poi che era un tizio di 300 anni prima e mi sono detto ma come un irlandese di 300 anni prima e lì ho cominciato è lì che ho cominciato a innamorarmi della letteratura come traccia culturale che riesce a superare i limiti che poi noi ci diamo perché cavolo Jonathan Swift non avrebbe mai pensato che il suo libro sarebbe stato letto da un vicentino del 2000 mai sono sicuro da un giapponese del 1982 o da un brasiliano del 1870 e invece ci sono cose che riescono a toccare corde talmente profonde talmente ancestrali letteralmente che arrivano fino a noi oltre le barriere linguistiche storiche culturali ed è una cosa incredibile ed è un po' il concetto che esprimevi è il concetto di memetica cioè in fin dei conti le nostre idee svolgono il ruolo nella produzione della nostra cultura così come i nostri geni hanno un ruolo nella produzione della nostra biologia noi tramandiamo idee e fra le idee c'è una competizione incredibile noi lo vediamo adesso lo vediamo voglio dire la politica perché è così appassionante la politica perché è il lagone dove la competitività fra i tra idee non i geni ma i memi trova il proprio il proprio scontro più eclatante ed è molto interessante e allora voglio arrivare a un punto che voglio chiederti perché anche quello è un argomento che nei tuoi video a volte ho sentito che è il tema della competizione della competitività perché io ho avuto una chiacchierata in live qualche giorno fa proprio qui su Twitch abbiamo fatto un Q&A ed è emerso il tema della competitività io sono un competitivo cioè io amo la competizione io amo quando giocavo a pallacanestro ero un rompicoglione incredibile che voleva sempre far l'uno contro uno che voleva sempre e poi ero un difensore tu hai fatto pallacanestro sì ho fatto pallacanestro anch'io e avevamo entrambi una band quindi abbiamo rischiato di suonare assieme e anche di giocare contro e io ero un difensore molto accanito ero un piove coglioni ai miei avversari perché facevo anche quei mind trick games ok tipo non so quando eravamo fermi con i tiri liberi io suggerivo all'altro ma che cazzo ti ha fatto venire qua a giocare ma veramente cioè veramente di solito sì di solito l'allenatore questa è una bella storia l'allenatore mi metteva sempre contro il più forte dell'altra squadra perché io facevo saltare i nervi alla gente ed era bellissimo mi sono beccato di cazzotti in campo quindi questa è bella però al di là di questo che è un aneddoto divertente io ho sempre sentito la competizione come un elemento fondamentale della mia vita in due sensi uno la competizione con il me stesso di ieri e questa è una cosa che ho imparato molto tardi in realtà l'ho imparata all'università di guardare a quello che eri sei mesi fa e dire ah no non è possibile che sia ancora fermo allo stesso punto eh no dai è insopportabile però poi anche la competizione con gli altri io vedo che culturalmente noi abbiamo molta paura adesso di parlare della competizione perché appunto chiacchierando in chat con le persone le persone dicono no 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 ma per esempio un artista non deve essere competitivo è una persona che fa uno no per me questo è impensato cioè non so come la vedi tu il discorso sulla competizione allora personalmente la competizione con me stesso totale però l'ho sempre ritenuto un difetto per assurdo nel senso che in verità quella competizione che ho è quella cosa che continua a farmi spingere però con meno armonia ok cioè io ho sempre i paletti estremamente alti come stesso e guarda ti faccio l'esempio venerdì scorso dico bene ho il weekend sabato o domenica per fare lo script del video e non accade ok e sabato perché oramai questa cosa come anche per te la facciamo così tante volte che oramai conosci tutti i tuoi processi tutti gli sgambetti che ti puoi fare eccetera eccetera per cui a sabato pomeriggio dico vabbè oggi è inutile oggi non lo farò lo faccio domani però vedi che già ho passato il venerdì e il sabato a struggermi perché la versione ghost di me per chi gioca ai videogiochi quando giocavi giochi in macchina via la macchina ghost Mario Kart che era la perfetta la perfezione di te stessa e te devi seguirla in quei casi là dico ok quindi io in sostanza ho passato il sabato a soffrire come un cane per il fatto di non aver fatto quello che avrei dovuto fare per portarlo a domenica dove non cambia niente ecco allora ora siamo a martedì e io non ho ancora fatto quel cazzo di script bravo bravo complimenti e sei qua a perdere tempo su Daily Cogito dannazione stiamo rovinando un progetto e lo script sarà quello che viene fuori da questa roba ci faccio un episodio molto comodo e il problema è stato che per le allora la cosa su cui mi bacchetto è dire è successo così tante volte che non ci credo che sia di nuovo accaduto cioè sono passato da sabato a martedì a vivere male una cosa che se l'avessi avuto più cognizione di causa più consapevolezza me stesso l'avrei direttamente messo a mercoledì e magari avrei anche prodotto di più in questi altri giorni quindi per me per il mio modo di gestire la mia competizione questo è un problema che devo risolvere cioè devo imparare un po' di più che il continuo pormi dei paletti troppo alti per competere con la versione perfetta di me quella cosa lì inizia a essere controproducente quindi tu da oggi in poi sarai in competizione con il te stesso che vive male la competizione quello è un buon metodo bene bene quello è quello no ma infatti infatti guarda non hai detto una cosa assurda se io vado a ragionare per come sono allora questa cosa è strafiga io quando andavo a fare le passeggiate in montagna passeggiate in montagna allora se ho se sono io che ho detto andiamo a fare una passeggiata in montagna e quindi traino un gruppo di persone andiamo di qua andiamo di là io sono capace di camminare per ore per ore senza problemi con questo egocentrismo schifoso sono la guida sono io ah guarda gli altri tutti stanchi capito ok se facciamo la stessa identica cosa ma qualcuno mi dice dai andiamo in montagna e io non sono all'inizio e questo lo ritengo uno dei più grandi problemi che ho però io io soffro tutta la camminata sono stanco dopo due minuti e continuo a dire ma che cazzo stiamo facendo quando c'era l'auto per cui per cui questo lo riconosco tantissimo e quindi sono probabilmente molto competitivo in questo senso tra l'altro gli amici più stretti che ho la riconoscono e la vivono anche ricordandomelo ogni tanto che utilizzo sto esagerando però però aiuta a far capire utilizzo loro per stare meglio io cioè questa è una roba bruttissima e infatti la sto esagerando però tante volte ha capito dire ah ok cioè chiedere gli altri dove sono perché questo dà la forza a me di fare se io per assurdo se io pensassi al me stesso invece che è più competitivo e più perfetto a un me stesso che è al bar a prendere a bere birre tutto il giorno per assurdo mi viene molta più grinta nel dire ah guarda sono già molto più avanti cioè sono io quello giusto certo certo è pazzesca questa cosa qua è veramente pazzesca è un meccanismo interessante sì sì invece se penso chi era Matthew McDonnelly non mi ricordo Michael McDonnelly giusto e lui quando aveva vinto l'Oscar aveva fatto il discorso su se stesso che aveva come punto di riferimento se stesso fra dieci anni quello ma per me lascia il tempo che trova nel senso sì il me stesso in senso di consapevolezza nel senso di felicità tutte quelle cose molto introspettive non di certo il me stesso che ha i soldi o ha fatto questo o quello perché magari fra dieci anni non te ne frega proprio niente hai trovato felicità in altro modo quindi quello non mi tocca sugli altri la competizione sì io la vivo molto come un mio difetto nel caso mio sì perché utilizzo la competizione per riconoscere il fatto di essere un passo sopra perché ho bisogno di quello per spingere più velocemente è tristissima è interessante io invece la competitività l'ho sempre vissuta devo dirlo anche con gli altri bene perché mi ci trovo a scherzare ma lo sanno anche qua i Cogito Studios quando giochiamo a Mario Kart perché qua abbiamo televisione con la Switch quindi ogni tanto facciamo le partite ovviamente li batto sempre perché sono mezzo calzette però nel senso la vi proprio bene si prende sempre molto sul ridere alla fine credo che la competizione sia molto interessante come fenomeno di autoironia anche quando che tu riesca ad averla meglio sugli altri o che tu non riesca a farlo perché poi competizione significa anche venire sconfitti molto spesso l'importante è saper dare il giusto peso che secondo me sono le cose che vanno cioè è quello alla fine io ho vissuto male la competizione degli altri quando gli altri stavano male quando non vincevano io c'è una cosa è che non è interessante vincere l'importante è proprio competere cioè in quel momento lì sentire la spinta a dire no io voglio fare meglio di te però senza poi presupporre che quando quella corsa finisce cambierà qualcosa fra noi due esatto io sono esattamente la stessa identica opinione nel senso quella anzi qualche volta mi dispiaccio quando proprio nel spirito di competizione magari qualcosa viene interpretato in maniera diversa esatto perché io poi di carattere per come sono fatto gioco spesso la carta ovvia e scherzosa di essere lo stronzetto certo o la prima donna cioè me ne dicono di tutti i miei amici però quello è un gioco e ogni tanto anche con gli amici più stretti mi assicuro anche magari in quelle conversazioni avanti una birra eccetera che tutto rimane al stesso livello sappiamo che non ce n'è bisogno infatti è risposta molto spessa dai però vuol dire che ci tengo però è vero da quel punto di vista la competizione diventa un cibo buonissimo che crea delle situazioni veramente molto interessanti molto stimolanti esatto sono d'accordo come vivi dopo la competizione io l'ho imparata questa roba qua giocando a risico ho cominciato a capire chi alla fine della partita si portava dietro la partita e ti voleva male è vero e invece io ho sempre detto guarda che io durante la partita sono un bastardo incredibile e mi diverto ad esserlo finita la partita finisce tutto lì ok che si ha vinto perso ci prendiamo per il culo però con leggerezza se si fa questo e lo si trasporta poi anche negli ambiti della vita è una cosa che ti dà tanto è una cosa che io ho imparato proprio però ecco io ho un po' di timore nel confronto della stigmatizzazione della competitività che trovo che nella nostra epoca sia molto molto forte perché non so invece anche la scuola ti mette in competizione in modo molto spesso quasi si deteriore proprio ti imbruttisce la competizione così come viene proposta nelle scuole si sono d'accordo sono d'accordo penso che sia anche è lì se parliamo di noi con i nostri amici ovviamente è tutto molto più controllabile come contesto quindi immagino che ci siano anche delle dinamiche diverse però si si c'è un ultimo video che volevo un concetto che hai espresso in ultimo video che in realtà è un video scherzoso quello che hai fatto al primo aprile che mi ha fatto molto divertire ma che non ho ancora capito se lo devo togliere o no perché io ci ho scritto poi vicino un video speciale per un giorno speciale con il pesce io spero che la gente si renda conto lascialo lì è bellissimo è bellissimo e però all'interno di quel video seppur scherzoso hai espresso un concetto che a me capita molto spesso di discutere che è quello di me lo so potatura sinaptica lì è messo per far ridere sì però è un termine verissimo però in realtà è importantissima quella roba lì perché nel cumulo di stimoli noi oggi siamo la popolazione con il maggior numero di stimoli nella storia abbiamo mai avuto niente di tutto questo cioè apri Netflix stai lì 45 minuti una puntata te la togli perché la durata di scelta della puntata dura come una puntata quindi è assurdo è anche quello un altro tema le scelte esatto noi ci troviamo di fronte a questa cosa che è un bombardamento incredibile e non so come la vedi tu però mi sembra che in questi ultimi periodi noi stiamo perdendo la capacità di selezionare le informazioni si parla molto spesso dell'algoritmo di YouTube l'algoritmo però è un falso nemico perché l'algoritmo perché funziona l'algoritmo funziona perché l'utente si è dimenticato che voleva guardare un'altra roba e che in realtà va bene io non so voglio guardarmi un video di chimica però mi viene mostrato il video dei gattini che cadono giù dalle scale dura 2 minuti e 35 dico vabbè dai dedico 2 minuti e 35 e me lo guardo mi diverto poi però mi viene consigliato e mi dimentico è il quinto video che stavo cercando un video sulla chimica flow continuo in realtà tutti dicono vabbè vedi questo dominio dell'algoritmo e per quanto il discorso che facciamo prima sulla libertà sia in parte legato cioè alla fine è un ambiente che vuole farti scegliere quello che conviene a chi detiene il potere su quel sito però poi cavolo io me le seleziono le cose al terzo video di gattini rinuncio al terzo video e torno a guardare secondo te com'è che si può ricostruire questo perché c'è un concetto nella filosofia che è stato espresso da Spinoza che è emendazione che è una parola bellissima cioè Spinoza diceva capire il mondo non significa informarsi non è avere maggiori informazioni ma è saper capire quali informazioni sono quelle che vuoi quelle che desideri voglio vedere voglio leggere filtrare esatto secondo te questa tendenza che è veramente una china molto scivolosa a smettere di utilizzare i propri filtri ma utilizzare quelli di Youtube di Amazon si può fermare è desiderabile fermarlo secondo te allora intanto sto per bruciarmi il prossimo episodio una maledizione yes stiamo demolendo il tuo progetto in realtà dillo adesso ti è venuto in mente lo script esatto adesso sono a posto in realtà chiudo il cerchio e via è straordinario no allora la libertà ci sono degli studi bellissimi a livello psicologico sulla libertà perché il concetto di libertà è dato proprio dalla possibilità di scegliere però è anche vero che quando che la scelta fin tanto che è di poche di poche opzioni allora è una scelta consapevole piacevole quando inizia a essere di tante opzioni inizia a essere estruggente inizia a essere un problema di fatica cognitiva quando è di una scelta è una tragedia di solito sì ma anche no guarda ci sono delle ricerche veramente qua fortunati siamo solo io e te quanti siamo 5 o 6 che ci guardano però io parlerò proprio di alcune ricerche che mostrano come anche a livello culturale cambia tutto tipo i paesi asiatici preferiscono per assurdo anche a livello di creatività sviluppano una creatività in un task preciso differente a seconda che gli vengono date tante opzioni o una e preferiscono la singola opzione per assurdo mentre noi siamo abituati alla scelta più ampia possibile però in verità con la grande scelta noi ci portiamo dietro tutta una serie poi di problematiche una legata all'aspettativa una legata alla responsabilità perché nel momento in cui tu hai tante scelte vuol dire che non puoi avere la scusa che ti è stata imposta una anzi ne avevi così tante che devi aver scelto quella giusta quindi ti continui a domandare se le altre fossero più giuste oppure no e una serie di altre cose che veramente non mi voglio bruciare però quindi diciamo che nel momento allora lì lì qual è la cosa interessante che se da un punto di vista è dimostrato in vari modi che per esempio più di tre scelte inizia a essere già complicato quindi il mondo del marketing lo conosce molto bene c'è un famosissimissimo esperimento con le marmellate con 26 24 marmellate e tre marmellate si è visto proprio il comportamento orientato molto di più sull'acquisto delle sole tre scelte però da un altro punto di vista dice ok allora come mai questa società si è praticamente basata sulla differenziazione più totale possibile torniamo ai supermercati a vedere che 45-50 tipi diversi di olio ok e cose del genere e lì ti dici allora se è vero che le troppe scelte creano problema allora c'è qualcosa che non va e partendo dal fatto che il marketing ha un obiettivo molto specifico che è quello di vendere strano che utilizzino ancora questo sistema la verità è che si è scoperto che quando non è una scelta a caso ma sono delle opzioni legate allo stile di vita e quindi io vado a determinare non i tre gusti per dire ma vado a determinare i gusti in base a certe tipologie di persone allora lì torno a rendere la fatica cognitiva minore quindi per le persone diventa più facile scegliere e anche più facile essere sicuri della scelta che hanno fatto youtube da questo punto di vista vorrebbe arrivare lì cioè l'algoritmo dovrebbe essere quello che ti presenta le tue opzioni per il tuo stile di vita però non è il massimo in questo non è ancora assolutamente il massimo oltretutto diciamo che la grande differenza macchina uomo ad oggi è che la macchina questo è di nuovo il libro dei generalisti se c'è ancora Gennaro mi dirà l'ho scoperto io allora le macchine hanno la capacità di ragionare bene a livello di tattica quindi sull'immediatezza delle operazioni dei task però l'uomo è ancora molto più forte a livello strategico quindi deve dare le cose nel lungo termine e quindi la cosa bella è anche che possiamo unire le forze in un certo senso però in questo senso io vedo YouTube come ancora qualcosa che lavora troppo di tattiche cioè troppo di comportamento legato a cosa ho cliccato poco prima cosa ho cliccato la settimana scorsa e non ragiona magari rispetto a quello che io vorrei essere il mio obiettivo nelle cose che voglio assorbire imparare nel tempo non ha ovviamente questa capacità di imparare le cose quindi ci arriveremo e purtroppo e per fortuna è un altro dibattito enorme l'intelligenza artificiale arriverà ovunque perché il potenziale è enorme però ad oggi si è estremamente limitato però c'è c'è un approccio alternativo che adesso è un pezzo che non controllo però qualche anno fa su Spotify le cose andavano un po' in maniera diversa perché ma in realtà succede ancora oggi se tu guardi non so quando ti fanno i mix di Spotify oppure quando cerchi la radio dell'artista ovviamente la composizione della playlist è automatica sulla base di quello che hai cercato in passato ascoltato di più e via dicendo Spotify ha sempre avuto un approccio che io ho trovato molto interessante cioè Spotify nel 70% della playlist ti dice io ti metto ciò che corrisponde secondo i nostri criteri a quello che hai cercato però ti metto sempre un 30% di molto diverso e io trovo che questo sia molto interessante perché un approccio ibrido in questo potrebbe veramente essere la strada faccio l'esempio di Amazon ok io detesto comprare libri infatti io non guardo mai le pagine di classifiche o proposte di Amazon perché so che Amazon mi proporrà soltanto cose simili a quelle che ho letto ma io quando andavo in libreria la cosa che chiedevo ai librai di fiducia era scolta mi è piaciuto mattatoio numero 5 di Vonnegut l'ho adorato dammi qualcosa di diverso dammi qualcosa di diverso perché io adesso bene o male saprei trovare qualcosa di simile a Vonnegut ma per trovare qualcosa di diverso invece eh no lì ci vuole qualcuno che conosce la materia meglio di me bellissima sta cosa e questo approccio ibrido io trovo che stia chi l'ha adottato appunto Spotify ha avuto una grande crescita non so se perduri ancora adesso ma credo di sì vedendo come le costruisce però guarda io su questo ci sto ragionando da un po' tanto per chiudere il cerchio con il discorso dell'intelligenza di prima allora ipotizziamola sempre buttando giù termini a caso perché si può dibattere tutto altrimenti però una macchina se va per tattiche diciamo che ha un'intelligenza relativa a azione reazione e via l'uomo è più stratega perché perché di fatto utilizza la creatività per risolvere i problemi no e c'è una bellissima non mi ricordo neanche più dove l'ho letta però l'ho usata spesso che quando dicevamo prima no che l'intelligenza è quella distanza tra l'istinto e l'azione la creatività rende questa cosa un triangolo nel senso che con l'intelligenza tu potrai sempre risolvere un problema solo in base alle variabili che tu hai all'interno di quel contesto lì la creatività ti permette di andare fuori da quel contesto prendere qualcosa da fuori e lavorare la cosa in maniera diversa tanto che se prendiamo la frase di Einstein che poi non si è mai capito se è di Einstein o no quella che non puoi risolvere un problema con la stessa mentalità con cui l'hai creato un po' significa questo quindi la creatività ti permette di andare fuori e provare a mettere dentro delle variabili nuove in questo senso lo sappiamo è la parte dove l'umanità ad oggi è ancora una marcia in più rispetto all'intelligenza artificiale cioè la creatività gli soft skills tutto quello che è creativo ci permette ad oggi di prendere ed essere in grado di mettere quella variabile di cui hai parlato tu ovviamente chi inizia ad elaborare questa cosa quella cosa che hai detto tu di Spotify l'ho sentita dire da tantissime persone e è una cosa che ho apprezzato tantissimo anch'io quindi sicuramente quella dovrebbe essere la strada altrimenti ti troverai sempre beh Amazon credo che sia il peggiore consigli di Amazon sono i consigli del peggior libraio che trovi ma non solo tu hai comprato un aspirapolvere e Amazon ti mostra aspirapolveri ma l'ho comprata come faccio a dirgli tra l'altro non c'è neanche la possibilità di spiegare perché almeno dico vabbè sei tonto ti spiego io che non voglio fammi dire no in qualche caso poi ma su Amazon non mi parli io mi ricordo di un momento languido ok quando ho comprato questo computer io ovviamente mi ero cercato delle cose di prezzi anche su Amazon poi io non l'ho comprato su Amazon l'ho comprato direttamente sul sito di Microsoft e quando mi è arrivata la mail di Amazon che mi diceva secondo noi hai bisogno di un computer ho sentito la musichetta tristissima questo sotto la mail ho detto cazzo Amazon mi spiace trovo a fare i mail con i suoni è stato bellissimo no comunque è straverso tra l'altro è un argomento così attuale l'intelligenza artificiale è come fare infatti i problemi più grandi ad oggi dell'intelligenza artificiale sono proprio relazionati a questo quelle cose che vanno un po' al di fuori dove la variabile non è all'interno del problema dove il confine di ciò che effettivamente è una soluzione innovativa e invece qualcosa sì sì è uno dei problemi che dovremmo assolutamente discutere in futuro e insomma il problema di questa live è che io andrei avanti per altre sei ore vecchio mio cioè mamma mia sono conosciuto per fare tipo tre quattro ore non ho mai problema però poi adesso dobbiamo aprire la chat vocale per la gente che avrà un sacco di domande poi dobbiamo anche cenare quindi insomma io direi che ci siamo è stato veramente veramente bello chiacchierare anche per me altri mille argomenti quindi insomma io credo che in cogitata ci troveremo altre volte quando vuoi è stato molto bello allora adesso se siete in live quindi non uscite perché rispondiamo a qualche domanda dalla chat e poi apriamo anche la chat vocale per un venti minuti circa e ci divertiamo ah si aspetta vedi che io vedi che io io dimentico potete chiedermi come funziona poi da dietro io ho fatto il corso dimentica perché c'è una domanda con cui bisogna concludere sempre tre libri che tu diresti ecco vedi che tutti si incazzano vedi che dovete smetterla di dire no però tre libri ma non cioè tre libri che sono stati significativi per te e diresti alla gente guarda secondo me questi vanno letti al netto di quello che sei che fai ok vai allora il primo è un libro ma è il concetto che mi ha cambiato tutto sono ovvi è antifragile Nicolò Stale è antifragile per chi non ha voglia il termine antifragile lo puoi imparare su youtube veramente poi meglio se hai il tempo di leggere i libri però intanto arriviamo ovunque con l'antifragilità che è un modo di vivere pazzesco è un bel libro però quando arriva il capitolo in cui dice che lui non mangia i pomodori perché non sono cresciuti intorno al Mediterraneo io stavo ridendo c'ha dei momenti c'ha dei momenti di svarionata ma infatti è per quello che io dico guardate anche su youtube perché voi conoscete Taleb com'è su youtube perché è proprio fuori di testa è fuori di testa e poi tra l'altro a me quel libro ha dato perché mi ha fatto anche capire io sono sempre stato così quindi come Taleb no 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 beh oddio non me lo sono mai mandato però l'antifragilità cioè io fino prima di conoscere termine antifragile dicevo sempre adoro le transizioni non riesco a capire perché adoro le transizioni ed è anche un problema non riesco a costruire perché ho voglia di cambiare non mi annoio in fretta eccetera Taleb mi ha dato questa risposta un altro che è un po' più particolare è il dilemma dello sconosciuto Malcolm Gladwell perché secondo me ti stimola ad avere un approccio diverso in quello che sono tutti i pregiudizi che abbiamo e nell'interazione umane lui fa tutta una serie di ragionamenti estremamente fighi e rompe un po' di schemi che siamo abituati a vedere quindi io ovviamente adoro il concetto di interazioni umane e di tutto quello che si genera e quanto crediamo di sentire già che l'altra persona è di un certo tipo eccetera il gut sense il gut feeling e roba del genere e lui va proprio sul dettaglio lui è un mago e scrive adoro come scrive Gladwell perché è molto sciolto molto veloce per cui è proprio per tutti e terzo non potrei dirlo perché sono arrivato a un quarto del libro però ammetto e visto che Gennaro è stato quello che l'ha detto a me ammetto che Generalisti a parte che David Epstein è un figo però mi sta mi sta piacendo molto e guarda se dico Generalisti solamente perché altrimenti direi Refuse to Choose di Barbara Sher però purtroppo è solo in inglese Refuse to Choose parla degli scanner che è lo stesso identico concetto solo messo un po' più poetico perché ovviamente gli inglesi sono sempre un po' così del multipotenziale ma in verità come anche Epstein parla di Generalisti difende tutti noi perché mi ci fico dentro totalmente quelli che fin da piccoli erano discontinui e la società ci ha sempre bacchettato perché ci ha detto finisci non passare ad altro non vedi che sei che sei sempre che sorvoli le cose e in verità quello è la grande forza di avere una curiosità in mano che ti porta a conoscere il mondo su tante sfaccettature e poi avrai sempre il tempo per verticalizzarti verso qualcosa e ti porterai dietro una creatività totale perché arrivi da tantissimi argomenti diversi ed è una cosa che io ho fatto completamente mia poi so che dovevo rispondere con una frase però questo è il mio problema non hai fatto bene mai ma ci mancherà ma non ti preoccupare però io credo che ad oggi sia per esempio per la fortuna che ritengo di avere nell'aver avuto questo processo a caso perché non è che qualcuno mi avesse detto eccetera è che io mi ritengo estremamente orizzontale per questo cioè il mio canale YouTube per esempio è un purpurri tra neuroscienze comunicazione aver fatto videomaker musica molte anime messo insieme questo ti aiuta da morire la freschezza che ti ringrazio di aver detto come termine la contaminazione è sempre fondamentale sono molto d'accordo bene 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 allora beh se siete indifferita in realtà trovate i link in descrizione dei libri che ha appena citato i buon mic di nuovo in live non uscite che ci divertiamo ancora un po' e quindi grazie mille veramente per questa chiacchierata fresca e niente voi sapete cosa fare dovete condividere la puntata andare a conoscere il lavoro di Michele e likeargli tutti likeargli l'ho detto beh hai detto anche Michele non è tutto noi ciò che pensa ciao e si diverte così Fede si diverte così è il tuo momento ti aspetti tutto il tempo per fare questo